La questione sembrava chiusa a fine aprile con il TAR che aveva confermato i timori del comune di Voghera e del fronte del no al biodigestore di Campoferro per la produzione di biometano da scarti vegetali, confermando che sì, l'impianto in effetti si trovava troppo vicino alle abitazioni e a luoghi sensibili e che l'azienda proponente aveva commesso errori materiali, questo scrivevano i giudici del TAR, nella misurazione delle distanze e bloccando quindi di fatto l'iter, il vasto fronte del no aveva festeggiato la vittoria ma il ricorso dell'azienda al Consiglio di Stato ha rimesso tutto in discussione, la Green Energy di Verona non si è resa e la provincia a cui spetta la concessione finale dell'autorizzazione ha convocato una nuova e probabilmente ultima conferenza dei servizi per il prossimo 26 settembre. Sul tavolo, oltre alla questione delle distanze dai luoghi sensibili che l'azienda dovrebbe chiarire, ci sono altre questioni avanzate dal comune come quelle legate al rischio di emissioni nocive o comunque impattanti per i residenti della zona. Un impianto del tutto simile era stato proposto dalla stessa azienda veneta nel territorio di Casei Gerola e in quel caso aveva ottenuto il via libera della provincia, seppur con decine di prescrizioni. Il biodigestore di Voghera costò 7 milioni di euro e in grado, sulla carta, di trattare 140 tonnellate di rifiuti agricoli al giorno, come noto, è stato fortemente osteggiato dalla comunità locale e da un vasto fronte del no. ASM Voghera, controllata dal comune, avrebbe progettato però un altro biodigestore in grado di produrre biometano per riconvertire un impianto per la produzione di biogas all'interno dell'area di strada del Postiglione, nei pressi di Medassino.